detto questo novità in arrivo accogliendo le richieste appunto delle scuole verranno strutturate delle singole aree per singola scuola dove ci sarà il referente didattico del progetto che appunto avete dato adesione con la nostra mail scusa se ti interrompo un'informazione da dire adesso rispetto anche a alcune riflessioni fatte successivamente l'intervento giustissima l'indicazione che ha dato consiglio a tutti gli istituti di creare se non ce l'hanno una mail dedicata dell'istituto e non utilizzare la loro mail personale perché arriva di tutto altrimenti poi se li arrivano come tu dirai fra poco tutti gli attestati dei ragazzi fate fatica a recuperarli se invece create una mail dedicata del vostro istituto alla sicurezza che gestite voi come referenti sapete che lì vi arrivano tutte le cose relative a docere quindi adesso magari mi mando una un modulo google nei prossimi giorni in cui mi indicherete la mail a cui volete ma che si indicata proprio per la piattaforma docere d'accordo questa mail in questo momento per essere chiari il certificato non viene inviato via mail come sapete ma il ragazzo inserendosi nella piattaforma inserendo le chiavi di accesso scarica il certificato appena nei prossimi settimane verranno attivati diciamo step by step le singole piattaforme dedicate per le singole scuole una delle caratteristiche verrà inviato anche l'attestato quindi se un ragazzo in maniera diciamo non corretta svolge l'accesso la sera per qualche motivo e quindi vi arriva un certificato di superamento alle 22 00 il referente si fa qualche domanda c'è qualcosa che non va all'interno dell'organizzazione perché ovviamente in cascati ipotizzo che voi ovviamente che ne arrivo al secondo tema avrete i collaboratori sulla piattaforma e qui arrivo certificati rimangono in memoria in docere in maniera permanente non abbiamo dato scadenze di al momento di attestati quindi ci sarà un'area per ogni scuola la scuola riceverà gli attestati via mail alla mail appunto che patrizia giustamente ha indicato e vi consiglio di utilizzare così evitati di avere bombardamenti dell'attestato su questa piattaforma noi riceveremo le vostre relazioni da questa mail che ci sarà un lbs dedicato in modo tale che siete delle richieste ci sarà un monitoraggio anche di si vengono trattati come vengono gestite ovviamente con questa mail e poi vi creeremo anche una mail collaboratore per quali per i docenti che utilizzeranno la piattaforma monitorare i ragazzi perché una delle richieste era io non so mai a che punto sono i miei ragazzi soprattutto quando utilizzo il micro test quel che vado a vedere prima a che punto sono quindi per evitare una duplicazione continua di docenti all'interno della vostra piattaforma verrà creato anche un collaboratore non editor che non potrà cambiare verificare completamente le valutazioni eccetera per ovviamente il monitoraggio quindi voi sarete i referenti o voi o chi per voi i referenti del proprio istituto e ci sarà una mail aggiuntiva per il monitoraggio questa mail potrete ovviamente distribuirla ai vari collaboratori che vi aiuteranno nella gestione penso per esempio alcuni docenti della sicurezza che faranno la formazione questo è un'idea di recente diciamo le definizioni siamo a patrice poi ovviamente come sapete con l'informatica l'evoluzione è continua una cosa importante fondamentale anzi in questo momento la piattaforma è attiva e presente va avanti come sempre le novità di oggi 26 di ottobre sono a la possibilità di fare la tipologia a dei test per la specifica quindi con i ragazzi bs eccetera b già la possibilità di fare i microtest con la stampa dei certificati per ambito che vi ho fatto vedere prima progressivamente in queste settimane la data a oggi non stiamo andando di darvela verrà attivata la piattaforma dedicata alla scuola che cosa vuol dire questo che se voi avete in questo momento urgenza domani mattina di fare dei test siete liberi e autonomi e la fatta con la piattaforma attuale quando decidete di utilizzare la vostra piattaforma che cosa nardelli invita insieme alle sette ovviamente tutti i membri partecipanti gli altri partecipanti vi da in maniera gratuita per la gestione dei test i ragazzi non verranno migrati della piattaforma attuale a quella vecchia quella nuova ovviamente quindi vi consiglio di utilizzare quella nuova ad esempio per i primi anni ok non è che avete una gestione definita per i nuovi scritti bravissimo non hanno mai fatto neanche un concorso esatto io vi consiglio di completare l'iter della piattaforma per quelli che sono già iscritti stanno andando avanti quindi ha impiegato la generale fatta la specifica e completate l'iter qui ok non avrete le diciamo le caratteristiche aggiuntive di poter gestire gli alunni cambiare la password verificare le varie di pari di vederli anche per classe volete creare delle categorie ok perché sarete più autonomi rispetto ovviamente all'attuale piattaforma come potete pensare raccoglie tutte le scuole di tutte le di tutta la provincia quindi è più ristretto come funzionalità la nostra indicazione è se c'è urgenza andate avanti con l'attuale con le nuove caratteristiche per i nuovi iscritti attendete progressivamente i rilasci patrizia poi su questo magari faremo una scaletta di priorità se qualche scuola ha urgenza di partire con i primi anni possiamo dare delle proprietà senza problemi nessun problema guardate io parto con le prime comunque fra sei mesi non ho problemi io ho urgenza domani mattina poi ovviamente domani mattina non hanno risposta da darvi perché la la possibilità di avere la piattaforma non è ovviamente domani però è una caratteristica importante già pronta ora ripeto tipologia a della specifica e gli ambiti ultima cosa poi mi taccio allora gli alluni che hanno iniziato a fare i test specifici singoli lo scorso anno scolastico sono rimasti in memoria certo certo la piattaforma attuale rimane identica quindi potete tranquillamente completare quello secondo l'iter standard semplicemente sotto sono attivati i corsi di comparto quindi se gli alunni del non so ha già fatto i test d'ambito potrà già stampare sotto il test l'ambito perché il ragazzo ha già superato la parte relativa iniziale se le da fatti tutti può stampare a certificato complessivo quindi non verrà fuori l'ambito servizi ma il completo quindi tutto il certificato per tutto il test semplicemente rischi praticamente esatto grazie